A una settimana di distanza dall'apertura dell'application per Copenhagen Business School che infatti aprono il 16 di gennaio e chiudono il 1 di marzo con questo video entriamo un po' più nel dettaglio di quelli che sono i requisiti per applicare a CBS un po' più nel dettaglio rispetto all'altro video che ho fatto sempre per Copenhagen Business School faccio questo perché ho visto che c'è stato molto interesse per l'altro video su Copenhagen e quindi voglio entrare più nel dettaglio con informazioni utili e precise sull'application Riprenderò alcune delle domande che ho ricevuto e poi entriamo nel dettaglio di quella che è l'application appunto per l'anno accademico 2024 A quanti corsi posso mandare application? Potete mandare application infatti a un numero massimo di tre corsi in ordine di priorità Il mio consiglio è di selezionare tra questi tre corsi almeno un corso per il quale vi sentite sicuri di entrare e sicuri di star soddisfando i requisiti necessari all'ingresso e magari come primo corso mettete quello a cui veramente ambite più di tutti anche se magari non siete al 100% sicuri di star soddisfando i requisiti a livello di materi in quanto gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo con questa application Il verdetto sulla mia application cambia se mando application all'inizio quindi appena apre il portale intorno al 16, 17, 18 gennaio oppure verso la fine quando sta per chiudere? No ragazzi non cambia assolutamente nulla Quest'anno come l'anno scorso la finestra per mandare application è unica e va appunto dal 16 gennaio al primo di marzo e non è un funzionamento a rolling basis come magari può essere per altre università nelle quali chi prima manda application meglio alloggia e quindi una persona che manda application a ridosso della deadline rischia di trovare che il corso per il quale sta mandando application sia già pieno e quindi abbia già esaurito tutti i posti Per CBS le candidature vengono tutte valutate alla fine una volta scaduta la deadline La finestra è unica e una application mandata al 16 gennaio ha lo stesso peso di una mandata il primo di marzo Che documenti sono richiesti? Allora entriamo nel dettaglio di questi documenti partendo dal grade transcript Il grade transcript ragazzi non è altro che la lista dei vostri voti con le vostre materie e la data in cui le avete sostenuti è un documento ufficiale che viene rilasciato dall'università Io ho utilizzato il formato dell'autocertificazione che è scaricabile dal sito della mia università nella sezione carriera dove appunto c'è la media voti ecco lì potete scaricarlo in inglese perché questo documento deve essere in inglese Per accertarmi che fosse valido e che CBS lo considerasse come un documento idoneo ho contattato le segreterie di CBS che mi hanno detto che andava bene solo se validato o firmato digitalmente da un responsabile all'interno delle segreterie della mia università così ho fatto firmare e timbrare con il timbro ufficiale dell'università questo documento a una persona all'interno della segreteria nel reparto della mobilità internazionale che ringrazio ancora e se stai guardando questo video ti saluto tanto perché mi ha aiutato davvero tanto per questo aspetto burocratico soprattutto per la lotta che abbiamo fatto insieme per ottenere il grade transcript del periodo all'estero che ho svolto quando sono andato in Erasmus a Singapore arriviamo anche a questo dopo Comunque ragazzi a proposito di media voti dato che prima l'ho citata per trasparenza ci tengo a dire dato che me l'avete chiesto anche alcuni quale fosse la media voti nel momento in cui ho mandato application a Copenhagen Business School quindi per trasparenza e per farvi capire meglio tutto il contesto che mi circondava e quindi tutti i documenti che ho inviato e quindi anche la media voti che possedevo in quel momento vi dico che la mia media nel momento in cui ho mandato application era quella di 29,489 qualcosa del genere voi magari ragazzi direte ah che mediona spaziale ma non fatevi ingannare perché quei 33 che vedete sono le lodi che valgono 33 ed è per quello che la media poi viene così gonfiata alla fine quindi davvero infatti quella che vedete sulla calcolatrice è appunto la media ponderata quella che vi ho detto prima che ho ottenuto facendo il calcolo di 33% se l'esame valeva 12 crediti oppure 28 per 75 se l'esame era 9 crediti se erano 6 crediti facevo per 50 quindi sommavo tutti questi esami per 50% e poi alla fine dividevo per tutti quei 150, 75 eccetera e così viene fuori la media ponderata per il peso degli esami appunto quindi ragazzi insieme al transcript dei voti ho caricato un altro documento chiamato ECTS points left gli ECTS sono praticamente i nostri CFU fatto in questo modo in questo documento ci sono gli esami che al momento della application mi mancano da sostenere o comunque i crediti che mi mancano da soddisfare per arrivare alla laurea in diversi mi avete chiesto ma ragazzi non c'è assolutamente bisogno di dover terminare gli esami che loro richiedono come requisiti per il termine della deadline quindi per il termine dell'1 di marzo voi potete semplicemente caricarli in questo documento e dire ok per finance ancora non ho sostenuto l'esame che mi permette di colmare quel requisito e quindi lo sosterrò nei mesi a venire in questo appello che è programmato per questa determinata data stessa cosa per le altre aree è sufficiente quindi citarli in questo documento qua dichiarando che li sosterrete e che sarete in grado di finirli per l'inizio dei corsi quindi che sarete in grado di laurearvi per l'inizio dei corsi a Copenhagen questa è la sezione dove si carica dei due documenti dei quali vi ho appena parlato quindi del great transcript e di questo ECTS points left e come vedete qua la data del 19 luglio è la data in cui era programmata la mia proclamazione di laurea e quindi la data di fine della triennale insomma che si conclude con questa proclamazione rimanendo quindi in tema great transcript quindi questo documento con le materie sostenute e dei rispettivi voti bisogna caricarlo anche per le materie che sono state sostenute all'estero che sia un Erasmus o uno scambio ex europeo insomma va fatto anche per queste materie so già cosa stai pensando perché molto probabilmente non hai ancora ricevuto il great transcript ufficiale dall'università in cui hai studiato all'estero io mi trovavo nella stessa identica situazione e quindi il mio consiglio principale sicuramente è quello di provare a pressare il più possibile le segreterie di questa università affinché ti invino questo benedetto great transcript o comunque anche un documento validato dall'università stessa che non sia magari il great transcript quello super ufficiale ma comunque un documento che attesti che tu sei riuscito a sostenere quelle materie con questi voti e quindi firmato o timbrato da quest'università quello è anche sufficiente di magari che è una particolare urgenza e necessità io con Singapore per esempio ho fatto del mio meglio ma loro mandavano il documento il 15 di marzo e prima del 15 di marzo non ne volevano sapere non l'avrebbero mai mandato e mi sono fatto anche aiutare dalla mia appunto segreteria come dicevo prima della mia università ma niente da fare ragazzi cascasse il mondo loro non lo mandavano vi posso però dire come ho fatto insomma io ho creato questo file word con la lista dei corsi sostenuti in questa università nel mio caso a Singapore e per ognuno di questi corsi ho legato lo screenshot della pagina ufficiale dell'università di Singapore dove appunto c'era scritto il corso sostenuto e il voto che avevo ottenuto in quanto già erano usciti nel momento in cui ho mandato la candidatura ho trasformato questo file in un pdf e l'ho caricato nel portale dell'application io per esempio ho aspettato fino all'ultimo per mandare la candidatura a Copenhagen in quanto non avrei mai saputo se magari ci fosse stato qualche cambio organizzativo e questo great transcript alla fine mi arrivava prima dei tempi ma alla fine niente da fare ho mandato l'application con questo documento che ho creato con le mie mani e per rendere ancora un po' più ufficiale questo documento ho fatto firmare questo file a un professore dell'università di Singapore che comunque rappresenta una figura importante una figura con delle responsabilità all'interno dell'università quindi direi una persona che può validare certi tipi di documenti e se queste materie che sostenete in Erasmus contribuiscono a soddisfare i requisiti per il corso al quale state applicando di Copenhagen aggiungete queste materie alla tabellina del CM Self Assessment che è così che si chiama sul sito quando è andata a scaricare che vedremo tra poco però ecco assolutamente aggiungetela a questa lista se avete intenzione poi magari di mandare l'application a CBS o a qualsiasi altra università che richiede qualche requisito specifico a livello di materie informatevi su quali siano queste materie magari chiedendo addirittura alle segreterie di queste università nelle quali vorrete andare a studiare così che piuttosto che scegliere corsi senza un particolare criterio scegliete corsi che vi permettono di soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso nelle università alle quali ambito entrare quindi per esempio potete scrivere a Copenhagen Business School se siete interessati di entrare a Copenhagen Business School dicendo guardate tra le mie materie della mia home university per esempio l'università dei sui di Milano o di Pavia o di Padova non c'è questo requisito di Finals non ho tra i corsi finanza aziendale quindi non riesco a soddisfare il requisito di Finals sto andando però in Erasmus in Spagna e c'è questo esame questo esame soddisfa i requisiti da voi richiesti oppure no? questo è il tipo di azione che io farei se fossi in voi dicendo magari ok se questo esame non soddisfa i requisiti quale esame lo soddisfa? quale esame mi consigliate di sostenere? poi ragazzi documento in inglese con la lista dei corsi che ritenete che siano più rilevanti ai fini della vostra selezione io ho inserito i corsi che ho messo nella tabellina del self assessment quindi i corsi che vanno a soddisfare a mio modo di vedere i requisiti in quanto non ci sono regole scritte o perfette ma voi dovete intendere cercare di interpretare quelli che sono i requisiti richiesti e vedere in base alle materie che avete sostenuto quali materie appunto soddisfano questi requisiti vi consiglio di andare quindi sul sito della vostra università mettere il sito in lingua inglese in alto a destra e andare sulle pagine dei corsi che avete sostenuto per ognuna di queste pagine prendete il link e lo copiate e incollate in un file word di fianco al nome del corso che avete sostenuto o che pianificate di sostenere chiamate poi questo file word come vi chiedono loro per esempio course description oltre ai link potete eventualmente anche copiare il contenuto di quelle pagine in quei link quindi anche i learning objectives i learning outcomes il syllabus dei corsi ma rimane il fatto che così viene un file word o comunque un documento che poi trasformate in un pdf molto lungo con informazioni che loro se cliccano su quel link trovano quindi ecco poi vedete voi poi ragazzi certificazioni in lingua inglese IELTS minimo 7 TOEFL minimo 94 Cambridge C1 Advanced con punteggio minimo di 185 o C2 Proficiency con un punteggio minimo di 200 cosa invece non serve lettere motivazionali o essays GMAT lettere di raccomandazione tutto questo non serve per questa application a Copenhagen Business School quali sono le materie che mi hanno tagliato fuori dall'accesso a Copenhagen Business School e che se invece avessi inserito mi avrebbero garantito un posto in questa università premetto che per ogni corso i requisiti sono differenti ma che il livello massimo di requisiti richiesti per esempio per il corso che ha più richieste annualmente sono questi quindi ripercorriamo insieme questo self assessment per microeconomics quindi microeconomia minimo 5 CTS io ne ho messi 12 quindi 12 CFU il corso classico di microeconomia soddisfatti perfetto per l'organization anche qui minimo 5 CTS richiesti io ho inserito il corso di Business Administration and Accounting di 12 CFU che è il classico corso di economia aziendale accounting e il corso di management di 9 CFU pensavo di colmare questi requisiti di organization ma ragazzi mi hanno contato esattamente 0 CFU infatti nella lettera dove mi dicono guarda non ti abbiamo preso mi dicono che mi mancano tutti e 5 gli CTS in organization cosa avrei dovuto mettere avrei dovuto inserire un corso di almeno 5 CFU che avesse a che fare con Organization of Human Resources quindi gestione delle risorse umane gestione HR eccetera eccetera corsi in questa area in questo ambito qua marketing anche qui minimo 5 CTS io ho inserito il corso classico di marketing da 9 CFU quindi requisito colmato al 100% anche qua quantitative methods slash statistics minimo 5 CTS qui ragazzi direi che abbiamo più che colmato questo requisito in quanto statistics 12 CFU introduction to econometrics che ho fatto a Singapore one course unit che sono 6 CFU e poi business statistics che sarebbe statistica per decisioni aziendali un corso che non me nemmeno è piaciuto per niente però va bene 6 CFU e anche qui requisiti colmati al 100% accounting minimo 5 CTS io ho messo il corso di analisi di bilancio quindi principles of accounting che valeva 12 CFU quindi anche qui a posto ultima sezione ragazzi che non ho colmato finance anche qui minimo 5 CTS richiesti io ho messo il corso di scienza delle finanze me l'hanno contato per 0 CTS cosa avrei dovuto mettere? avrei dovuto mettere un corso di finanza aziendale di almeno 5 CFU in inglese corporate finance un corso di intermediari finanziari che vale 9 CFU ve lo contano per la metà quindi per 4,5 e ancora hanno riuscito a soddisfare i requisiti necessari se soddisfate questa tabella di requisiti che appunto costituisce i requisiti massimi per l'accesso al corso che ne richiede più di tutti siete in una posizione in cui potete praticamente accedere a tutti i corsi nell'ambito di business administration and management se vi manca qualche cosa non disperate perché potete anche pianificare di sostenere questi corsi oltre la deadline dell'application del 1 di marzo potete sostenerli come facoltativi anche se vanno fuori dai 180 CFU del vostro piano di studi non importa perché ciò che conta per CBS è che voi li abbiate sostenuti se anche dovesse sostenere qualche corso magari un po' più di fretta e quindi lasciando un po' andare il discorso della media prendendo qualche votino un po' più basso ragazzi io me ne fregherei assolutamente in quanto ciò che conta veramente è soddisfare questi requisiti se questo dovesse portarvi a sostenere qualche corso in modo un po' più affrettato magari in quanto dovete fare in tempo a laurearvi a luglio e magari questo vi porta ad abbassarvi leggermente la media il mio consiglio è di farlo lo stesso di farli anche un po' più in fretta ma di fregarvene perché l'importante veramente è sostenere questi corsi per avere i requisiti necessari perché tra qualche centesimo di media voti in meno è un requisito mancante che nemmeno vi fa cedere alla fase di selezione vera e propria che ha tra l'altro un acceptance rate molto basso preferisco 100 volte che mi si abbassi un pochino la media avendo con me un corso in più che fa tutta la differenza in questa application perché ricordatevi che gran parte dei candidati come il sottoscritto vengono scartati nella fase iniziale quindi nella fase in cui controllano se voi avete i requisiti necessari per accedere a un determinato corso perché ragazzi l'aspetto veramente importante è che Copenhagen Business School a differenza di tante altre università come possono essere Rotterdam School of Management o Stockholm School of Economics giusto per fare un esempio che ti avvisano dopo 3, 4 o 5 settimane dal momento in cui tu hai mandato application nel caso in cui tu non stessi soddisfando i requisiti necessari da loro richiesti Copenhagen Business School ti dà un esito unico e te lo dà il 10 giugno in cui può non accettarti anche solo per la questione di questi requisiti e capite bene che se uno studente manda application a febbraio e viene avvisato del fatto che non sta soddisfando i requisiti 3 o 4 settimane dopo il momento in cui hai mandato application realizza questo fatto e si concentra quindi su altri obiettivi su altre candidature io per esempio non ho mai dubitato nemmeno per un secondo di non star soddisfando quei requisiti e quindi non mi sono nemmeno mai posto questo problema altra questione ragazzi per la quale mi vengono spesso poste diverse domande riguarda la validità di questi Master's Degrees e nello specifico se sono l'equivalente di un percorso magistrale qui in Italia in essenza il nostro più due del classico 3 più due ragazzi questo tipo di percorsi questi MSc quindi questi Master of Sciences come questo di Copenhagen che sono per la maggior parte della durata di due anni rappresentano un percorso perfettamente coerente per il post triennale i CFU se il corso è di due anni sono 120 e quindi perfettamente uguali al nostro più due del classicone 3 più due all'italiana quindi zero problemi da questo punto di vista la validità è quella quindi questi Master of Sciences sono equivalenti ad un percorso magistrale diverso è per l'America invece dove gli studenti svolgono un Bachelor di quattro anni che vale come i nostri cinque poi entrano nel mondo del lavoro e poi magari svolgono un MBA quindi un Master of Business Administration ragazzi per questo video è tutto ci tenevo ad entrare un po' più nel dettaglio di quella che era l'application per Copenhagen Business School spero vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile per la vostra application nel caso in cui vogliate applicare a CBS a CBS